Un mese di emozioni in crescita direttamente proporzionali alle vittorie della nazionale fino all'apoteosi di domenica sera quando gli azzurri di Roberto Mancini ci hanno regalato una gioia enorme resa ancora più intensa dalle circostanze. La finale in trasferta, le tracotanti dichiarazioni degli inglesi, un calendario che sembrava fatto apposta per far vincere la nazionale dei tre leoni, ma soprattutto la felicità di festeggiare, di ritrovarsi uniti con amici, parenti e sconosciuti in nome di sensazioni positive dopo un anno e mezzo di paura, mascherine e reclusione. Il sapore della normalità, il giudioso strombazzare dei clacson, i tuffi nelle fontane, la festa nelle piazze, al centro di città e paesi, tutti insieme, italiani con italiani, vicini, abbracciati, felici e finalmente vincitori. Tutto bellissimo anche perché nessuno, a parte i giorni subito prima della finale, ha pensato di ricordare che tutto sommato c'è ancora una variante delta del virus che ha messo in ginocchio il mondo, che circola e che in Italia siamo ancora lontani da percentuali di vaccinati tali da poterci permettere una normalità che sia reale e sicura. Purtroppo la verità è diversa, probabilmente questi campionati europei con questa formula itinerante sono stati un'idea sbagliata in questo momento e la stessa libertà di festeggiare e di socializzare, quasi come se nulla fosse successo, fosse andava contenuta, non per paura o mancanza di fiducia nel popolo italiano, ma per realismo, perché una cosa sia chiara, se davvero, come stanno dicendo più voci in queste ore, una nuova ondata di Covid-19 potrebbe colpire l'Italia o l'Europa anche a causa dell'eccessiva libertà che è stata concessa in occasione del torneo calcistico continentale, la responsabilità sarà soprattutto di chi non ha avuto il coraggio di imporre cautela in un momento in cui si stava riassaporando la libertà in relativa sicurezza. Bene gli europei dunque, simbolico ritorno alla normalità, ma questo evento andava gestito in modo diverso, badando forse un po' meno ai sondaggi elettorali ed un po' più alla tutela della salute delle persone, alla cura di questo ritorno alla normalità. Speriamo di non pagare un prezzo troppo alto e nel caso, comunque, qualcuno dovrà assumersene la responsabilità. Speriamo di non pagare un po' meno ai sondaggi elettorali Grazie! Grazie!